Guarda, in Giacomo 1.1 leggiamo, Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute, cosa sta dicendo qui? Giacomo, la lettera di Giacomo, l'epistola, come tutti sanno, ok, non c'è nessun dubbio, è stata scritta ai cristiani. Ora, Giacomo si dirige ai cristiani chiamandoli le 12 tribù nella dispersione. Cosa sta dicendo qui? Che noi cristiani siamo le tribù di Israele disperse. Va bene? Ci siamo fino a qui? Quindi, cosa vuol dire? Che Israele siamo noi, l'Israele, l'Israele dello spirito, l'Israele, quelli che offriamo al Signore, appena che lo leggiamo proprio nella Bibbia, è Filippesi 3.3. Leggi, te lego io. Filippesi 3.3? Sì. Ok. Chi sono i veri circoncisi? Chi sono? Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Wow, amèn. Siamo noi gli ebrei, siamo noi i circoncisi, siamo noi Israele. E da quando? Da quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo? Perché la vera Israele è il corpo di Cristo. Quindi andiamo avanti, Romani 10.12. Ok. Romani 10. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Ok, quindi non c'è più giudeo e greco, l'italiano, il tedesco, l'americano o l'australiano. Siamo tutti ebrei in Cristo Gesù. È chiaro fino a qui? Sì. Quindi l'Israele, vai da Galati 5, verso 6. Israele, cos'è Israele? È la circoncisione. Cos'è che fa diventare uno ebreo? La circoncisione. Galati 5.6. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Ok, quindi guarda, primo Corinze 7.19, anche bella scrittura questa. Quindi in Cristo Gesù non conta niente la circoncisione. Quindi questi predicatori che dicono che gli ebrei sono ancora popoli di Dio, ma non è mica vero. Dio non ha due popoli, né tre né quattro, Dio ha un popolo. Gesù Cristo non ha due corpi, un corpo ebreo e un corpo cristiano. Non è niente affatto. Il corpo di Cristo, la vera Chiesa, è solamente quella cristiana, ebrei, spirituali, perché la circoncisione non conta nulla in Cristo Gesù. Molti dicono, sì, però sai, Gesù è stato circonciso. Sì, appunto, però il Nuovo Testamento insegna che non è necessario, è stato circonciso per noi. È stato battezzato nell'acqua per noi. Capisci? Sì. È il nostro rappresentante. Primo Corinzi 7.19. Ok. Primo Corinzi 7.19. La circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla, ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Amen. Colossese 3.11, guarda. Chiaro. Quindi la circoncisione non conta nulla, l'incirconcisione non conta nulla. Non conta nulla. 3.11. Sì, quindi ripete. Ciò che conta sono i comandamenti di Dio, cioè ubbidire al Signore, ubbidire. Amen. Cosa c'è? Colossese 3.11. Vai. Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scitta, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Amen. Romani 2. Wow, sono molte scritture che dicono. Molte scritture, ma ci sono tantissime che adesso non ho tempo di leggere tutte, ma questo è importante e voglio leggere. Romani 2.28-29. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella nel cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 9.6-9. Quindi il vero giudeo è quello che è giudeo nel cuore. Non giudeo nella carne, sono figlio di Abramo, eccetera. Sono figlio di Cristo, figlio di Dio, questo è il vero giudeo. Romani 9.6. Sì, però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe di Abramo, sono tutti figli di Abramo. Quindi non perché uno vive in Israele vuol dire che è israeliano. E adesso deve fare parte di Cristo per essere figlio di Abramo. Anzi, è in Israele che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Quindi la promessa in Cristo. Dunque, molti fratelli cristiani hanno problemi a capire che i 144.000 sono cristiani. E qui torniamo alla domanda di questo fratello. Ma è questo perché loro interpretano l'israelismo, l'ebraismo in un modo carnale, cioè circoncisione nella carne. Capisci? E chi è sbagliato? Perché dice in Apocalisse 7, dice i 144.000 vengono dalla tribù di Giuda. E perché dice così? Di Dan. Perché noi siamo, leggi quello che tu non hai letto. Giacomo 1, 1. Perché quelle tribù siamo noi. Sì, ma perché deve dicere Giuda, Noldous? Perché nel Vecchio Testamento Dio ha promesso che lui avrebbe fatto sorgere un popolo ad Abramo. E quindi questo popolo deve essere nella discendenza di Abramo. Abramo, Isacco, Giacobbe, cioè Israele. Nella stessa persona. Quindi la promessa di Dio non può essere rotta. Quindi Dio deve mantenere la promessa, capisci, del suo popolo dentro i parametri di Israele. Solo che siccome Israele si è messo ad adorare il diavolo, gli idoli, eccetera, Dio ha detto, ok, io mantengo la mia promessa che il mio popolo sarà figlio di Israele. Però in Cristo, non, capisci, non nella carne ma nello spirito. Ed ecco che qui entriamo, nel testamento Israele continua, però continua spiritualmente. Infatti se vai in Apocalisse 22, ok, Gesù dice, io sono la stella del mattino e sono la radice di Davide. Ora, vedi, quindi Gesù, figlio di Maria e discendenza di Davide. Figlio di Davide, abbi pietà e guariscimi. Va bene? Ma dopo la resurrezione non è più figlio di Davide e, capisci, ritorna ad essere di nuovo solamente figlio di Dio. Anche Gesù ha detto agli ebrei o ai farisei che il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un agente che porta frutti. Matteo 21, perfetto, capisci? E loro hanno perso il regno di Dio perché hanno crucifisso Gesù. Possono fare parte del regno di Dio. Vuol dire che adesso non hanno più speranza? No, hanno la stessa speranza che avevamo io, te e qualunque altro perduto. Ma non è che perché sono ebrei, come certi erroneamente insegnano, hanno qualche millimetro di favoritismo, hanno qualche superiorità come per esempio quello che certi ebrei cristiani insegnano. Dicono che loro non sono solamente cristiani, no, no, sono ebrei cristiani. E grazie tanto, che differenza fa? Che differenza fa se sei ebreo cristiano? Amen. Io sono doppio ebreo cristiano allora, in Cristo. Vai da Giacomo 1, 1. Giacomo 1, versetto 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, ha le dodici tribù che sono disparse nel mondo. Salute. Ok, salute. Buongiorno, buongiorno. A chi sta scrivendo Giacomo? Ai cristiani. Ai cristiani. E perché dice dodici tribù? Perché lei chiama? Sono spirituali. Sono spirituali. E allora, quali sono le dodici tribù di Apocalisse 7, riferendosi ai 144.000? Sono i cristiani. Sono i cristiani. Apocalisse 7, le dodici tribù, che lì c'è la lista, le dodici tribù, dalle quali vengono i 144.000? Cosa sono? Ebrei carnali o ebrei spirituali? Ebrei spirituali. Oh, sono le stesse tribù, le stesse dodici tribù che Giacomo dice in Giacomo 1, 1. E quante tribù c'ha Dio? 24? C'era 12 cristiani e 12 ebrei. Non è possibile. Gli ebrei continuano a chiamarsi ebrei, popoli di Dio, israeliti. In realtà sbagliano. Perché loro hanno cessato di esserlo. Tu hai citato Matteo 21. Il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un popolo che porterà i frutti. Popolo di Cristo, popolo cristiano. Quindi il regno di Dio agli ebrei carnali è stato tolto. Va bene? Sì. Cioè è chiarissimo. Quindi questi cristiani, questi fratelli che non capiscono che 144.000 certo che sono ebrei, lo stesso modo che erano ebrei quelle 12 tribù alle quali Giacomo si riferiva, le 12 tribù nella dispersione, va bene? Sì. I cristiani. Perché gli ebrei carnali non erano dispersi. C'era ancora Israele ai tempi di Giacomo. Erano ancora lì a Gerusalemme. Quindi quali sono questi dispersi? I cristiani perseguitati, capisci? Cacciati fuori. Amen. Va bene? Sì. Allora sulla radio non abbiamo messo questa insegnanza ancora, però su YouTube ce l'abbiamo e si chiama I 144.000 sono ebrei o cristiani? Sul nostro YouTube potete ascoltarla, 15 minuti, una insegnanza. Guarda, mi apri lì Giacomo, l'epistola di Giacomo per favore. Andrea, sì. Chiudiamo? Yeah. Ok, apri lì l'epistola di Giacomo, il primo capitolo, Andrea. Gems. Questa è una Bibbia speciale che ogni capitolo mi dà la data storica di quando è stata scritta. Ah, non è una traduzione speciale? No, questa è la re Giacomo inglese, la traduzione normale, però è un'edizione biblica che mette anche l'anno in cui queste professie furono date. Allora, Giacomo capitolo 1, allora, apri la Bibbia, vai a Giacomo. Allora, capitolo 1, che anno è? Sessanta. Sessanta? Sì. Anche controlli, giusto? Sessanta? What does it say? Yeah, sixty. Sessanta. Quindi, Giacomo nell'anno Sessanta dopo Cristo, diceva, infatti io non lo so più neanche che anno ha dovuto controllare, speravo che fosse prima dalle distruzioni del Tempio, infatti lo è stato. quindi Giacomo nell'anno Sessanta diceva, si dirigeva alle dodici tribù della dispersione. No, esisteva ancora Israele o era stata distrutta già dai Romani? No, esisteva. Israele fu distrutta nel settanta dopo Cristo dai Romani, questa è storia. Bene, dieci anni prima, nel Sessanta dopo Cristo, dieci anni prima della distruzione di Israele, Giacomo si indirizzava ai cristiani alle dodici tribù nella dispersione. Ma allora, e le dodici tribù che erano in Gerusalemme e in Israele, chi erano? Niente. Il regno di Dio gli era stato tolto, quando? Nell'attimo che Gesù è morto in croce. Infatti tu vedi al finale di Matteo 28, di Matteo, Vangelo di Matteo, Vangelo di Luca, lì, uno di quei due dice che quando Gesù morì sulla croce, la cortina del Tempio fu sguarciata e lo Spirito Santo uscì. Perché fu sguarciato? Lo Spirito Santo uscì. Nel momento che Gesù è morto in croce, ecco che gli ebrei perdono il regno di Dio. Cioè quindi lo Spirito Santo che stava nell'arca di Dio, dentro il Tempio, esce dall'arca di Dio, torna in cielo, va bene? Torna in cielo, sguarciando la cortina, dice da capo a fondo, una cortina di 5 metri, attenzione. Perché da capo a fondo? Mostrare che non era opera umana. Se tu devi sguacciare una cortina non vai a 5 metri dall'alto in basso, ma dal basso no, invece dall'alto in basso. Poi gli ebrei l'hanno riparata, infatti nella storia ebraica questo atto non esiste, l'hanno riparata, hanno fatto finta che tutto va bene. In realtà lì è stato quando l'arca, l'arca del patto, è sparita, scomparsa. E dov'è? Dov'è? E in un posto che gli ebrei non possono trovarla. E dove? E hanno fatto dei film, Indiana Jones, la ricerca dell'arca perduta. Vai Apocalisse 11. Indiana Jones ha fatto un film, la ricerca dell'arca perduta. Film che io ho visto, film vecchissimo. Allora, verso la fine. Guarda, alla fine, guarda, è verso 19. Apocalisse 11, 19. Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'arca dell'Alleanza. L'arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Ok, questo è dopo che comincia il regno di Dio, verso 15. Verso 15 comincia il regno di Dio. Allora l'arca sta nel cielo? Sta in cielo. E sta in un posto che è scritto, registrato, documentato dove l'arca è. Però è scritto in un luogo, Apocalisse 11, che gli ebrei non lo possono trovare perché non ci credono. Non credono nel Nuovo Testamento. Però, vedi, il Nuovo Testamento, Apocalisse 11, 19, ti dà le coordinate, l'indirizzo esatto dove l'arca è. E loro stanno ancora cercando l'arca. Credono che sia, alcuni dicono, è in Turchia, è nascosta sotto la montagna Gerusalemme. Cerca, cerca, la troveranno mai. Perché? Perché quell'arca è sacra e Dio l'ha messa in cielo. Amè. Alleluia. Bello conoscere le scritture. E perché Gesù mi ha detto, non insegnare niente senza scritture, in questo modo sconfiggerai sempre il diavolo, mi ha detto. Infatti, da allora il diavolo è sempre perso, compreso i falsi profeti, i falsi pastori, i falsi insegnanti, i falsi profeti. Perché loro predicano opinioni, però muoiono nel momento che gli dico, mi dai una scrittura? E sono morti. A volte prendono la pinza, la tenaglia e prendono la scrittura, ma la stortano in tutti i modi, no? Però, sai, loro ti danno una scrittura distorta e tu gliene dai dieci diritti. Grazie.